Come si è iniziato a fare la nostra prestazione? Siamo veramente unite, anche perché la forza del gruppo deve essere la nostra forza in campionato, soprattutto se vogliamo giocare contro squadre importanti e vogliamo ambire a posti alti della classifica. Ma abbordabile penso che non ci sia niente in questo campionato perché abbiamo visto che squadre come San Martino comunque se la sono giocata, quindi per noi sarà un test importante anche perché vogliamo qualificarci alle Final Four e queste partite che stiamo giocando, anche se possono sembrare un po' più abbordabili, per noi sono importanti. Grazie. Grazie.